La tendenza di questa amministrazione nel vedere complotti dappertutto sta assumendo i contorni di un'autentica patologia. Dopo i dirigenti, i consiglieri di opposizione e le associazioni, sotto accusa finisce anche la soprintendenza. Sono parole usate dai consiglieri di opposizione per commentare la vicenda dello stop al trasferimento di parte della biblioteca comunale dalla sede del Palazzo Municipale all'ex Istituto Sant'Anna. Scatoloni pronti, trasloco imminente, ma la soprintendenza ha detto che non solo non si può spostare il cosiddetto fondo antico, ma neanche il patrimonio liberario più recente, quello del Novecento, come era nei progetti dell'assessore Monte. È stata proprio la reazione dell'assessore che ha parlato di scenari di bega politica, stigmatizzando l'atteggiamento dei funzionari della soprintendenza, che hanno scelto di diffondere la posizione dell'ente tramite la stampa, invece di partecipare ed esprimerla durante la conferenza di servizi da lui convocata, a scatenare oggi l'accusa di vittimismo da parte dell'opposizione. Per Elvira Frigiei e i colleghi di SEL, Sciocca Democratica e PD, l'assessore Monte, invece di vedere fantasmi dappertutto, dovrebbe lavorare a impegnarsi seriamente per il rilancio della biblioteca Monsignor Aurelio Cassar, risolvendo i problemi strutturali dei locali che la ospitano all'interno dell'ex convento dei Gesuiti, ma soprattutto dovrebbe riuscire a dialogare con gli enti interessati e competenti, invece di lanciare accuse di strumentalizzazioni per interessi politici. Non è colpa di qualche oscuro nemico, aggiungono gli esponenti dell'opposizione, se i locali della biblioteca versano in condizioni di assoluto degrado e nulla è stato fatto in questi anni per porvi rimedio, stanziando le somme necessarie agli interventi. Opposizione che poi addebita all'amministrazione l'incapacità persino di far sedere attorno ad un tavolo gli attori protagonisti di questa vicenda. Il riferimento alla mancata partecipazione della sovrintendenza alla riunione la scorsa settimana, che era stata convocata dall'assessore Monte per capire le motivazioni alla base di questa posizione e cercare di trovare un'intesa sul progetto di trasferire al Sant'Anne il patrimonio librario più recente. Per inciso, Monte ci riprova perché ha già convocato per martedì prossimo un nuovo incontro. Ma l'opposizione è in calza e parla di amministrazione che invece di investire sulla cultura e sull'effettivo rilancio della biblioteca, indirizza le proprie scelte verso altre cose in grado di assicurare consenso elettorale.